Da questa mattina c'è un modo migliore per farsi capire ma senza annoiare Tutti d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo? D'accordo! Studiare e imparare beh non fa certo male ma prima di tutto impariamo ad amare Tutti d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo! A ci piace perché parla con il cuore B ci piace perché è buono come il pane C ci piace perché sogna e fa sognare B ci piace perché è più più che speciale Beh insomma modestamente Il mondo di fuori non cambia colori Facciamoci sotto e gli diamo due mani Tutti d'accordo? D'accordo! D'accordo! Tutti d'accordo? D'accordo! D'accordo! Ecco svegli ragazzi eh Svegli ragazzi eh Eh